Sky TV oggi trasmette da Napoli ed è una sequenza di giornate, oggi è l'ultimo giorno, di una serie di interventi, di interviste a tantissimi personaggi dello spettacolo, della cultura, della politica. Gli spettatori di queste giornate sono gli studenti delle scuole superiori di Napoli e anche gli studenti universitari, saranno attivamente coinvolti quindi potranno porre una serie di domande agli ospiti presenti e questo è anche un modo per coinvolgerli attivamente all'interno del processo culturale e politico che ruota intorno a tutti gli interrogativi e le problematiche di interesse pubblico. Oggi parliamo di disabilità con il ministro Locatelli e con Marina Collo, un punto importante, dobbiamo iniziare a creare la cultura nel nostro paese della disabilità pensando a tutte le cose che servono alle persone nate disabili, a chi lo diventa e alle loro famiglie. La scelta di Napoli è ricaduta su una città che ci ha sempre attratto, ci ha sempre attirato soprattutto per lo sviluppo che sta avendo da subito. Quando abbiamo deciso di andare fuori dai nostri studi abbiamo pensato di coinvolgere i ragazzi, sono la generazione meno ascoltata dal mondo dell'informazione, pensavamo che andando fuori dai nostri studi fosse giusto coinvolgerli per dare anche loro la possibilità di interagire con noi, di dare le loro opinioni, di fare le domande ai protagonisti del mondo dell'informazione e della comunicazione.